bella a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale ragazzi oggi vi andate che cosa che cosa che che ho detto che solo per il mese di dicembre e anche alla fine di gennaio i video usciranno in due orari cioè usciranno due video al giorno ma non tutti i giorni cioè usciranno un video al quattro del 70 e uno alle 19 ragazzi perché perché ragazzi andate due video al giorno ragazzi e ragazzi vi vado a dire che ora i giorni che andate due video ragazzi e che saranno il 5 i video del presente e video dell'albero dove faccio l'albero e poi anzi il 6, l'8, il 9, l'11, il 12, il 15, il 16, il 17, il 19, il 20, il 23, il 26 e il 21 e poi ragazzi tutti c'è il 2, il 3, il 4, il 10, il 14, il 18, il 21, il 22, il 24, il 25, il 27, il 28, il 30 e il 31 ha un video che c'è solo al sole alle 12 ragazzi perché ragazzi che andrò a registrare cioè andrò andrò, questo è il giorno dove andrò a caricare due video saranno, saranno oggi ho deciso di fare come l'anno scorso in cui andrò a registrare i video andrò a caricare dei video dove andrò a giocare quel caso delle napoletane, dei giochi a tavoli della tavola, della tavola e della tavola ragazzi ah sì, i giochi di quel caso di napoletane che potrò giocare questo mese dicembre e forse anche qualche video andrò a presto la settimana ragazzi, poi ragazzi, dall'8 gennaio ragazzi riprenderà il video nei giorni, nei diversi orari della settimana, dall'8 gennaio che si trova di lunedì poi ragazzi, i giochi di quel caso di napoletane che sono solo 11, briscola, scopo di scientifico, ruba carte, ruba mazzetto poi ragazzi, meccanifica, un po' modificato e poi abbiamo un sesto giocatore che non lo so se lo portero ragazzi che è il 7 e mezzo questa è la giocatore che si gioca con i soldi però ragazzi, io ragazzi, non ho mai giocato con i soldi io ragazzi, penso che ragazzi, giocare con i soldi sia da biglietti ragazzi, cioè giocare con i soldi un po', cioè, un po' come una serie urbana ah, se io giocassi con i soldi, cioè, se io bisognassi di noi giocano con le carte, mi senti come se le vissi giocare e ho parole che sono troppo po' ragazzi, io che so così ragazzi se io suggerisco, io dovevo i soldi, me li voglio guanere me li voglio guanare lavorando a me si quando sei più piccolo capito che va bene ma è diverso ragazzi poi ragazzi dei giochi da stavo ragazzi sono tre domino sudoku barra samurai ragazzi chi lo chiama samurai che sudoku un terzo gioco ragazzi che ragazzi lo vedete tutti i giorni sulla tutte le serie sulla ragazza ed è affari poi ragazzi con la tombola cioè la tombola carnappoletana che america mi occupa mezzo e mezzo tavolo quasi mezzo tavolo cioè un quarto di tavolo pure ragazzi quando si guarda con un video era un po' piccolo quello che a oggi non è ancora di stato poi ragazzi con la tombola vincola con la ragazza dove va il corso dei suoi uomini poi ragazzi il gioco l'arma degli animali quando faccio il video lo vedete poi ragazzi poi questo gioco ragazzi lo speterò con mia nipote ragazzi di 9 anni ragazzi che è il gioco dell'oca ragazzi questo gioco ragazzi ci va matto ragazzi ragazzi quindi poi ragazzi e basta questo ragazzi tutto ciò che ragazzi porta in questo mese in questo mese di dicembre ragazzi e quindi ragazzi il video finisce qui e ragazzi ci vediamo ragazzi domani con il primo video il primo giorno sarà un video che uscirà alle 14 solo questo video quando sarà un video sarà solo per domani il video uscirà alle 14 poi tutti i giorni che programma un video uscirà alle 11 poi i giorni che programma un video uscirà alle 14 e uno alle 19 ragazzi ragazzi quindi ragazzi ci vediamo domani con il primo video e poi ragazzi ci vediamo poi dopo domani cioè il 3 dicembre ragazzi con i gironi erano domani qui per ragazzi il 2 alle 18 ci vediamo dopo domani